Musica Con il microfono è molto, molto più facile, perché io ad esempio, quando ho delle canzoni con dei passaggi, falsetti e tutto, non mi aiuta, cioè riesco a, adesso poi sistemiamo questo suono che mi fa male, riesco comunque ad aiutarmi perché sappiamo benissimo, vabbè, falsetto fatto bene comunque ha un volume tale che arriva quasi alle lume della voce modale, la voce. Però ho un po' di supporto o necessità, sicuramente in più. Ok, prossima vittima. Vai, la prossima vittima, senti come è intubato? Parla, prova, prova, check, stop. Allora, prendete la prova precedente, oppure in inglese è ancora più facile, per esempio, what you got, 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 what you got. Allora, deep think, ball, you got, what you got, when you got, what you got, what you got, what you got, what you got. e i just, just wanna so alive you make me be you make me be Duolga, guarda una stagia come si? aniquillo, be Grazie a tutti 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 Grazie a tutti